Il Catanzaro piazza il colpo a centrocampo, ufficiale la firma di Simone Pontisso. Il classe 1997 ha seglato un contratto biennale con la società giallorossa. Il regolamento che dopo aver vestito la maglia del Vicenza ad inizio anno lo scorso gennaio è stato ceduto al Pescara nel giorno B di Lega Pro, formazione con la quale ha disputato il playoff promozione. Prosegue la trattativa per il ritorno dell'attaccante Pietro Iammello, che dopo il preso dello scorso gennaio arriverebbe dal Frosinone a titolo definitivo. Nel Merino c'è anche Alessio Curcio del Foggia. La società pugliese ha annunciato il rinnovo di contratto con Giuseppe Nicolao. Il terzino rosso-nero ha firmato un contratto fino alla 30 giugno 2024. La CERN Messina ha sciolto il nuovo allenatore per la prossima stagione con l'annuncio di Gaetano Auteri. Il club siciliano ha ufficializzato l'arrivo del tecnico di Florida attraverso un post sui propri canali social corredato, da un breve video in cui Auteri entra allo stadio San Filippo a Franco Scoglio. Il giugno vitale, esterno mancino, classe 1987, con oltre 300 presenze in carriera e tre professionisti, possono aprirsi degli interessanti opportunità di Serie C. Sul giocatore, originale di Castellammare di Stabbia, ci sono la Juve Stabbia e la Turris. Alessandro Di Paolo Antonio potrebbe cambiare maglia nel corso di questa sessione di mercato. Non mancano i club interessati al forte centrocampista Ex Avelino. Il regista di proprietà del Monterosi interessa al Foggia, che lo aveva già prelevato in presto a gennaio, ma sul cacciatore ci sono anche Trento e Audace Cerignola.